Per arrivare in questo paese bisogna fare talmente tanta strada che a un certo punto si rinuncia. Si tratta di paesi che hanno sempre la valigia in mano. Tu arrivi e loro non si fanno trovare. Qui tutti puntano al centro del paese e nessuno vuole stare in periferia. La piazza del paese si chiama piazza delle pucci. Tu c'hai e senti delle voci. Non evitarti a galleggiare. Scendo che soffrono. Anche a costo di annegare. E sorridi. E questa umanità convigliata su se stessa c'è una strada bianca. Grazie. 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 Grazie.